Un sistema turistico che sta morendo, voi avete dato notizia di altri due alberghi che a Palermo sono chiusi e di un albergo come il San Paolo, che è un bene ormai di tutti i siciliani e non solo dei siciliani, ma degli italiani perché è acquisito al patrimonio dello Stato, che metterà il personale in cassa integrazione. Questa è la realtà, la realtà è che noi ci troviamo di fronte a un sistema che è stato pensato per gli anni del turismo di massa e che ormai non è più attrezzato, ne ha avuto la possibilità di riconvertirsi per il turismo individuale che è quello che stiamo vivendo adesso.